Ben trovati dall'Unione Industriale di Napoli per un convegno organizzato dalla SMS Engineering e dalla Microsoft. Parliamo di cloud, uno spazio virtuale fortemente innovativo, evoluto che viene lanciato dal web. Strumentazioni, spazi informatici che vengono proposti dagli aziende per garantire sicurezza, flessibilità, servizi in grado di migliorare la produttività e ridurre tempi e costi di lavoro. Il cloud è una tecnologia abilitante tra quelle annoverate anche nel piano Industria 4.0 che in auge ormai da diversi anni. È partita un po' in sordina perché chiaramente le aziende, anche da un purista culturale, sono abituate ad avere i dati in casa, avere le applicazioni in casa, quindi si è partito nel corso degli anni a spostare in cloud applicazioni abbastanza semplici come il sito web, la posta elettronica, l'e-commerce che tra l'altro sono predisposte. Noi diciamo da un purista tecnico sono native, nascono native per essere erogate in cloud. Invece poi in questi ultimi anni c'è stata veramente un'esplosione, c'è stata un'esplosione prima di quella che si chiama tecnologia di hybrid cloud, cioè cloud ibrido, che sarebbe che alcune cose vanno effettivamente in cloud, altre cose le tieni in casa e le riesci a gestire contemporaneamente nel modo più corretto. E negli ultimi tempi si parla di multi-cloud, cioè la possibilità di gestire più cloud di diversi provider. Noi siamo qua oggi chiaramente per sponsorizzare, per rinforzare la proposizione che Microsoft fa con il suo cloud. Però è chiaro che nonostante sia un cloud molto molto importante, in cui ci sono stati investimenti importanti, va integrato, potrebbe essere integrato su alcune tipologie di settori, su alcune tipologie di clienti, con altre soluzioni cloud o ibrido e multi-cloud che gli possano dare forza ancora maggiore. Voi di SMS come declinate poi questi servizi al cliente? Noi di SMS appunto siamo un po' i consulenti che diamo una mano a utilizzare queste tecnologie abilitanti che sono ormai di utilizzo comune e in qualche modo a customizzarle, quindi a renderle molto personalizzate rispetto alle esigenze del singolo cliente e quindi dargli la possibilità di ottenere i massimi benefici da queste tecnologie perché per quello che appunto stiamo dicendo vanno integrate, vanno orchestrate, vanno gestite, altrimenti come tutte le tecnologie se avessi la possibilità di comprarmi una Ferrari e non preparo bene il pilota non vado da nessuna parte, quindi il nostro ruolo è un po' quello di ritagliare queste soluzioni sul cliente e di formare le persone del cliente in modo da poterle sfruttare appieno. Utilizziamo le infrastrutture e le strutture tecnologiche per ottimizzare chiaramente i processi dell'azienda e quindi per creare sviluppo, per creare un valore aggiunto e negli ultimi anni devo dire che c'è stato tantissimo lavoro in questo senso che ci ha consentito quindi di standardizzare tutta una serie di processi attraverso l'utilizzo della tecnologia il che ci ha consentito appunto di evitare ed eliminare tutta una serie di complessità esistenti all'interno della nostra azienda ma che stiamo sempre più riducendo grazie all'utilizzo di queste tecnologie e quindi direi che le sfruttiamo proprio per eliminare queste complessità che avevamo tantissimo nel passato e per far sì che ci sia allo stesso tempo una riduzione di costi ma soprattutto una miglioria dei nostri processi aziendali e quindi una produttività maggiore da parte dell'azienda e tutte le risorse che ne fanno parte. Voi siete un'azienda che testimonia l'importanza dell'utilizzare tecnologie fortemente innovative come quelle che vi sono state proposte dalla SMS e che voi avete intelligentemente sfruttato. Corretto, direi che è proprio il termine giusto, è proprio l'affermazione giusta nel senso che SMS non solo ci ha proposto le soluzioni adatte agli scopi e gli obiettivi che volevamo raggiungere ma ci ha anche proposto poi gli strumenti e i prodotti corretti e giusti per il raggiungimento di quegli obiettivi quindi direi che c'è stato veramente un connubio tra la nostra azienda SMS e i prodotti che ci ha proposto e che ad oggi abbiamo sposato, quindi ad oggi noi utilizziamo Azure, utilizziamo Office 365 utilizziamo tutta una serie di strumenti sicuramente oltretutto a me prima sconosciuti perché assolutamente continuo ad essere un neofite abbastanza ignorante nel settore della tecnologia e mi sono completamente affidato ad SMS perché sapevo la direzione che volevo intraprendere sapevo qual era la meta che volevo raggiungere ma in mezzo ci dovevano essere per forza di cose sono una serie di strumenti a utilizzare che è stata la SMS a propormi, a farmi testare e poi finalmente a farmi utilizzare e con i quali, come dicevo prima, abbiamo raggiunto veramente dei risultati eccellenti direi oggi proprio perché siamo in un'era completamente digitale e l'evoluzione è più veloce di noi noi uomini non ci possiamo fermare davanti a nulla diciamo che al sud forse più che al nord stiamo cominciando a capire di più cosa significa la trasformazione io dico sempre che con un click siamo da quell'altro capo del mondo oggi trovare, cercare, conoscere il mondo è molto semplice restare al palo oppure non affacciarsi nella nuova era, nella nuova era digitale significa restare indietro, significa diventare ormai passato e noi giovani non ce lo possiamo permettere siamo la linfa vitale delle nostre aziende, soprattutto aziende familiari dove c'è un retaggio un po' più difficile di lasciare lo scettro ai giovani e soprattutto all'era digitale nonostante io sia giovane è entrata in azienda per esempio mio nipote ventenne e ci siamo affidati a lui per la nuova tecnologia 4.0 quindi c'è sempre da imparare, quando entreranno i miei figli ce ne sarà ancora forse la quinta chiaramente noi da sempre usiamo soluzioni in cloud la nostra azienda usa il cloud sia come spazio condiviso e spazio non condiviso ma soprattutto lo usiamo come motore delle applicazioni diciamo il 99% circa delle nostre applicazioni è in cloud quindi noi non usiamo più server fisici che usavamo fino a qualche anno fa ma ormai usiamo solo server virtuali che lavorano in cloud quindi sia lo spazio di archivazione sia la potenza di calcolo è data da sistemi virtuali oltre a questo il cloud noi lo diamo a ogni cliente o ai nostri clienti il backup su iPhone lo fai sul cloud il backup di iPad lo fai sul cloud quindi il cloud è il nostro pane che differenze possiamo fare tra cloud che è appunto lo spazio virtuale un po' per eccellenza Microsoft Azure Power BI ma guarda Azure Power BI sono cioè Azure è sia spazio virtuale che potenza di calcolo noi avevamo alcune applicazioni su Azure quindi le conosciamo benissimo e le abbiamo usate per circa due anni il Power BI è una business intelligence che usiamo tra l'altro anche noi per far visualizzare in maniera grafica, in maniera interattiva, in maniera semplice da fruire dati molto più complessi da vedere sotto forma di tabelle, report eccetera noi la usiamo ogni ora i nostri punti vendita hanno dei dati nelle dashboard della BI ogni 5 minuti quindi hanno dei report delle dashboard con dei parametri che variano ogni 5 minuti quindi la BI è una delle nostre applicazioni clou che lavora in cloud si parla ultimamente spesso di artificial intelligence o intelligenza artificiale che spesso e volentieri viene confusa con un altro termine strettamente correlato che è il machine learning la differenza sostanziale secondo me è importante nel definire bene i due termini consiste nel fatto che l'intelligenza artificiale e il machine learning sono due facce della stessa medaglia noi definiamo l'intelligenza artificiale o artificial intelligence come quella scienza che punta a creare o a sviluppare delle macchine in grado di avere un pensiero autonomo molto simile a quello umano mentre il machine learning viene definito come una tecnologia che consente l'apprendimento intelligente della macchina per cui volendo fare degli esempi un po' più concreti l'artificial intelligence sviluppa delle architetture in grado di sviluppare delle reti neurali quasi di avvicinarsi alle reti neurali umane quindi che praticamente consentono quasi di replicare il pensiero umano allo stesso modo mentre il machine learning consente alla macchina che ha questa capacità di migliorarsi con il tempo quindi sviluppare una capacità che consente di andare a correggere degli errori quindi se pensiamo per esempio alle automobili a guida autonoma le automobili a guida autonoma hanno la caratteristica che viene rappresentata dal machine learning attraverso la quale a livello tecnologico la macchina consente per esempio di evitare degli ostacoli oppure di fare un percorso particolare più ottimizzato e impara dai propri errori quindi attraverso un proprio percorso attraverso degli errori durante il percorso che consente all'autovettura di raggiungere una destinazione rispetto a un'altra corregge quelli che sono gli errori ottimizzando quello che è il risultato finale le aziende e soprattutto le piccole e medie imprese guardano sempre più con scetticismo il mondo del cloud ecco cosa propone, cosa fa Microsoft per ovviare a questa problematica? allora Microsoft offre tantissime soluzioni per ovviare a questa problematica per fortuna oggi le aziende e anche le piccole e medie imprese che storicamente non sono quelle più reattive ai grandi cambiamenti stanno intraprendendo un viaggio che noi chiamiamo un viaggio digitale è un viaggio sicuramente molto lungo che alcune aziende intraprendono con una soluzione ibrida quindi parzialmente mantengono le vecchie licenze che noi chiamiamo on premise e sempre più spesso valutano il cloud come una soluzione intermedia che garantisce loro soluzioni di sicurezza e soluzioni ovviamente di collaborazione l'asset più importante di tutte le aziende sono ovviamente i dipendenti Microsoft offre tantissime soluzioni una per tutti il nome Microsoft 365 che sposa all'interno di un'unica soluzione un sistema operativo delle soluzioni legate alla sicurezza informatica e soprattutto la tipica soluzione più conosciuta per i nostri utenti che è Microsoft Office 365 all'interno di un'unica suite offriamo tutti gli strumenti per le aziende per essere competitive, strategiche sul mercato e soprattutto comunque dare ai dipendenti un ambiente familiare e attraverso il quale lavorare sempre nella continuità e soprattutto nella collaborazione sia con gli altri dipendenti dell'azienda sia con i fornitori esterni Allora il cloud è concepito per delocalizzare la parte elaborativa dell'azienda noi ci troviamo oggi in un contesto in cui accumuliamo sempre più dati questi dati che pervengono per esempio da dispositivi mobile da dispositivi IoT dai server aziendali questi dati non siamo più capaci di contenirli all'interno dell'azienda e dobbiamo per forza di cosa ingrandire le nostre sale CED per evitare questo problema ci si affida al cloud il cloud è un qualcosa che si può scalare si paga in funzione degli spazi occupati delle prestazioni richieste della velocità di elaborazione e quindi in pratica noi siamo in grado di poter seguire l'evoluzione del nostro business semplicemente facendo gli investimenti proporzionati a quello che poi si deve poter richiedere come elaborazione Sì, buon pomeriggio a tutti Allora l'intelligenza artificiale è un elemento studiato tanto dalle risorse umane in quanto è imprescindibile dall'attività legata alle nostre attività ovviamente l'intelligenza artificiale è un aspetto rivoluzionario nel settore e all'inizio non è stato visto di buon occhio ma oggi diciamo che gli HR manager guardano all'intelligenza artificiale come un elemento di supporto alle attività legate magari ad una fase di pre-selezione quindi in fase di screening di CV può essere un aspetto rilevante ovviamente non può essere sostitutivo dell'elemento persona che è quello che poi ovviamente ha la caratteristica dell'empatia dell'intuizione che è fondamentale nella valutazione finale della scelta dei candidati La vostra associazione cura i rapporti tra mondo militare e mondo civile quanto le piattaforme informatiche, gli ultimi sviluppi della tecnologia quindi parliamo di cloud, di Microsoft, Azure, Power BI possono esservi utili nella regolamentazione di questi stessi rapporti? Ok, grazie, bellissima domanda indubbiamente noi spingiamo per la nuova tecnologia perché secondo me il mondo militare è sempre un mondo che è avanti per quanto riguarda la tecnologia ovviamente queste nuove piattaforme sono utilissime anche se devo dire la verità, personalmente penso che vadano utilizzate con qualche prudenza nel senso che il mondo militare è comunque governato da sicurezza allora un'applicazione cloud io la vedete benissimo però in un cloud privato per il core business magari potrebbe essere anche pubblico però quando non sono applicazioni particolarmente classificate per quelle classificate certamente è utilissima però deve essere ristretta, circoscritta all'organizzazione nella quale viene sviluppata La tecnologia è fondamentale in qualsiasi diciamo sistema che debba in qualche maniera gestire la difesa di un paese in particolare tra le varie tecnologie quelle abilitanti più importanti anche nell'ultima guerra sono state quelle a supporto della sicurezza non ci dimentichiamo che il trasferimento delle informazioni cosiddette classificate se in qualche maniera venissero captate, rubate, copiate dai nemici potrebbero cambiare le sorti di un conflitto quindi è importante avere una certa attenzione nel trasferimento di queste informazioni e nel far sì che le tecnologie permettono dei livelli di sicurezza elevati affinché non ci possa essere il breach da parte di un hacker oppure da parte di un nemico nel ricevere queste informazioni determinanti per stabilire come si deve muovere un paese nel settore difeso oppure come si sta muovendo all'interno di un conflitto Oggi è chiaro che noi qui ne parliamo da un punto di vista di utilizzo nell'industria e quindi nelle attività produttive normali e naturali dove la sicurezza viene gestita da un punto di vista normativo da quello che è il GDPR su cui abbiamo fatto anche noi tanti e diversi eventi però è fondamentale muoversi sempre con un occhio riguardo ai sistemi che riguardano la difesa perché è quella la strada che dobbiamo seguire e perseguire per avere la certezza che si sia veramente sicuri L'argomento è stretto nel senso che se occupiamo di innovazione vuol dire che andiamo a ricercare tutte quelle tecnologie opportunità, strumentazioni, competenze che hanno a che vedere con l'innovazione in generale Il collega Massimiliano Canestro ha voluto coinvolgerci in questo evento perché desidera che noi portiamo il nostro contributo di competenti in materia di diffusione dell'innovazione Chi sono i nostri partner? Il nostro target preferito sono le aziende ma soprattutto coloro che producono competenze cioè le scuole e l'università ma anche i centri di ricerca è con loro che proviamo a fare progetti di diffusione della cultura dell'innovazione se possibile anche a livello europeo proprio in questo periodo stiamo cercando di costituire un partenariato per costruire un centro di brocheraggio addirittura di intermediazione che possa acquisire le conoscenze delle competenze e delle tecnologie laddove esistono e poterle trasferire a costi molto bassi se possibile gratuitamente verso il mondo delle piccole e medie imprese Grazie Grazie